La Guardia di Finanza di Salerno ha consegnato alla locale Croce Rossa ben 700 paia di calzature sequestrate al mercato del falso. Gli accessori di abbigliamento sono stati posti sotto sequestro dalle fiamme gialle all'esito di un'attività di contrasto alla contraffazione al porto di Salerno nei giorni scorsi, ovvero giunti dalla Spagna. L'autorità giudiziaria, su richiesta degli stessi militari, ha rilevato l'effettiva esigenza ed il sicuro utilizzo ai fini umanitari della merce oggetto del provvedimento cautelare. Ha disposto così la devoluzione ai cittadini più bisognosi della comunità dei suddetti articoli sottratti al mercato del falso. Gli articoli, se così non fosse stato, sarebbero stati destinati alla distruzione. Alla consegna avvenuta presso la sede del gruppo di Salerno della Croce Rossa, hanno presenziato i rappresentanti dell'associazione di volontariato, che quotidianamente si adoperano per i meno fortunati e gli stessi militari che hanno effettuato il sequestro. L'attività, fanno sapere dalla Guardia di Finanza, testimonia la particolare attenzione che si rivolge anche al perseguimento dei più ampi fini sociali, assumendo un valore simbolico che ha permesso, in stretta sinergia con la Croce Rossa italiana, di destinare a opere benefiche i frutti di attività illecite, che danneggiano così la libera concorrenza e l'imprenditoria sana, onesta e rispettosa delle regole del mercato. Le scarpe saranno quindi devolute ai cittadini bisognosi attraverso l'organizzazione o tramite case e famiglia.